Turismo, in questi due giorni abbiamo visto un'affluenza da record in tutta la provincia, a Savona anche. Su cosa si punta e quali sono le eccellenze da valorizzare? Certo, noi stiamo puntando a vari percorsi, percorsi che sono stati studiati per i croceristi che sbarcano quasi un milione di croceristi all'anno, però poi stiamo a questo punto estendendo anche agli altri turisti. I percorsi sono innanzitutto quello enogastronomico con le nostre eccellenze, ricordiamoci Farinata Bianca e Chinotto e stiamo anche attivando dei progetti molto importanti sulla coltivazione del Chinotto anche attraverso bandi che abbiamo vinto come mare di agrumi. Per quanto riguarda poi il turismo religioso è un altro filone molto importante che stiamo portando avanti, anche perché forse non tutti sanno, ma Savona è la terza città per permanenza di papi al mondo, dopo Roma e Avignone. Savona ha dato i Natali a due papi, Giulio II e Sisto IV, ma Savona anche ha tenuto in prigionia Papa Pio VII. Savona ha una cappella a Sistina voluta proprio da Papa Sisto, dopo averla costruita a Roma è diventata quella di Savona il mausoleo dei propri genitori, e poi Savona ha presso il santuario una delle più grandi e importanti basiliche mariane. E questo è un filone importante, è un filone che stiamo percorrendo anche attraverso una specie di strada, di sentiero, di pellegrinaggio religioso che stiamo tracciando parallelo alla strada che si percorre con le auto, dove sono tutte le cappelle della via Crucis. Dopodiché affianchiamo il turismo, quello più culturale e artistico, anche perché Savona ha un'importante pinacoteca, un'importante museo della ceramica, e infine il turismo sportivo. Quello è un altro filone importante che stiamo percorrendo insieme al campus e a scienze motori del campus. Stiamo attivando dei percorsi anche sullo stesso Priamar, dei percorsi di benessere, aperti a tutte le età, aperti a disabilità, perché un'altra cosa importante che vorrei ricordare è che Savona quest'anno, a ottobre, ospiterà le Paralimpiadi europee. Saranno a Genova e saranno a Savona. E dopodiché anche il turismo sportivo che guarda alla fascia di popolazione anziana, quindi l'invecchiamento attivo. Anche lì stiamo facendo moltissimi, stiamo elaborando moltissimi progetti con il campus e ci siamo comunque candidati come città europea dello sport per il 2019.